Presidente Paparesta, poteva andare diversamente la stagione del Bari? Sì, doveva andare diversamente, nel senso che la voglia e le aspettative erano quelle di raggiungere un obiettivo diverso da quello che è stato raggiunto. Noi volevamo arrivare in Serie A, volevamo andare a raggiungere il play-off, cosa che purtroppo non è riuscita, e lavoreremo per migliorare la stagione appena terminata, quindi su questo stiamo già lavorando, in questi giorni siamo particolarmente attivi e quindi a breve penso che inizieremo a fare qualche operazione di mercato importante. Interverrete un po' in tutti i reparti? Sì, più o meno in tutti i reparti, comunque partendo da quello di buono che è stato dimostrato quest'anno e consolidandolo con altre figure che possano essere adatte alla piazza di Bari e soprattutto che abbiano tanta voglia di mettersi in gioco e di dimostrare capabilità e forza di volontà per raggiungere determinati obiettivi. De Luca, Contini, Rinaudo, quale sarà il loro futuro? Loro sono dei giocatori che quest'anno sono stati in prestito a Bari, stiamo parlando con le rispettive società perché comunque hanno fatto un ottimo campionato, siamo soddisfatti di tutte e tre. Quanto riguarda Sabelli, richiesto da vari club anche in Serie A, cosa fanno le vostre scelte? Sabelli fa parte, è un patrimonio di questa società, è stato fortemente voluto nello scorso mercato quando l'abbiamo riscattato alle buste con la Roma, è un giocatore che gioca nell'Under 21, adesso parteciperà agli europei, per noi è un giocatore di grande rilievo e di grande importanza, valuteremo chiaramente le opportunità che ci saranno sia per tenercelo sia eventualmente se arriverà una grossa offerta da qualche importante squadra di Serie A, ci siederemo con questa società e con il giocatore per capire se è fare o meno l'operazione. Secondo lei è pronto per questo grande salto? Ma sì, sicuramente è pronto, adesso vediamo quello che accadrà, però ripeto non è da escludere la possibilità anzi che possa rimanere perché noi anche abbiamo sicuramente bisogno di un giocatore come lui.